Cosa ci diceva sempre Goethe, anzi cosa scriveva? Che l'arcobaleno durasse più di 15 minuti nessuno lo guarderebbe. Fortunatamente per la cooperazione non funziona così, perché è così varia, ma soprattutto così dinamica e resiliente. Questo è quello che ha dimostrato nel 2015, quindi andiamo a parlarne con Mario Abrate, il leader di Fedagli, per sapere com'è andato questo anno. Però che introduzione Renata, complimenti anche per le citazioni altisonanti. Bene, buongiorno a te, buon anno a te e in particolare buon anno a tutti i nostri, li chiamo i nostri telespettatori che nonostante tutto continuano a guardarci. Un anno, 2015, beh un anno decisamente sofferto, leggiamo tutti quanti i giornali, vediamo la televisione tutti i giorni. Un anno sofferto per il nostro mondo agricolo che, guarda caso, però si è concluso con i provvedimenti della politica, della politica grande, su alcuni passaggi che riguardano il nostro settore decisamente favorevoli. Dobbiamo darne atto, la partita IMU, il discorso gasolio agricolo, le questioni che riguardano il mille prorogo, in buona sostanza stabilità e compagnia, che tutto sommato ci fanno ben sperare rispetto a un occhio di riguardo che nonostante tutto l'agricoltura comunque goda ancora in questo paese. E ne abbiamo ben donne. Io credo che il ruolo insostituibile di questo settore, in tutte le sue sfaccettature, in tutti gli ambiti, in tutte le filiere, sia assolutamente importante. E ancora una volta, io poi lascio spazio ai colleghi dei vari settori, ancora una volta però, quello che voglio dire come riepilogo introduttivo è che ancora una volta abbiamo dimostrato che il sistema cooperativo, vale a dire insieme per fare massa strategica, massa critica, insieme per fare qualità, insieme per fare mercato, ancora una volta ha premiato. Abbiamo visto i percorsi cooperativi nell'ambito delle varie filiere, tutti quanti, tutti indistintamente dal vino, che è quello che gode di miglior salute rispetto agli altri, ma anche alle partite zootecniche, il fatto di avere vissuto questi impatti di mercato difficili, difficoltosi, particolari, di averli vissuti e affrontati insieme in cooperativa, ci ha fatto bene e noi di Fedagri ne siamo ovviamente orgogliosi. Auguri ancora di buon anno a tutti quanti. La cooperazione quindi è resiliente, pertanto è capaci di trasformare le difficoltà in opportunità. Questo è quello che hanno fatto anche i settori di Fedagri Piemonte nel corso del 2015. Andiamo ad ascoltare le loro testimonianze. Il settore corelicolo quest'anno ha vissuto un momento di grande effervescenza. Le produzioni sono state ottime, di qualità e ovviamente adesso si fa un gran parlare ovviamente di queste espansioni dei nuovi impianti. Occorre però fare una riflessione perché proprio nel momento in cui c'è bisogno di prodotto, c'è bisogno di dare un prodotto di qualità, le nostre organizzazioni di produttori possono dare la risposta giusta. Perché solo attraverso un'aggregazione di produttori e attraverso la formazione di una massa critica di prodotto possiamo essere competitivi sul mercato. Il mercato adesso ci chiede di essere bravi e noi attraverso loro vogliamo essere bravi e vogliamo dare una giusta remunerazione al socio. In questo ritengo che le nostre organizzazioni di produttori aderenti a Fedagri lo stanno facendo veramente bene. Per il settore ortofrutticolo che rappresento il 2015 è stato un anno controverso, la cui difficoltà maggiore è stata quella di affrontare questo mercato sempre più grande e globalizzato e che ci ha da questo punto di vista penalizzato su alcune culture, vedi soprattutto la pesca che sconta ancora dei problemi notevoli proprio legati all'internazionalizzazione del prodotto e a una competizione con certi paesi come la Spagna che ci vedono soccombere dal punto di vista per esempio dei costi di produzione. D'altro canto altri prodotti si sono rilevati maggiormente competitivi come per esempio la mela e quindi abbiamo delle speranze. Insomma ci sono prodotti anche nuovi che si stanno affacciando al mercato, abbiamo visto per esempio il Nergi, il Kiwi di piccolo taglio, chiamiamolo così e la stessa cooperazione dobbiamo dire che si sta rilevando uno strumento importante per superare queste difficoltà soprattutto dal punto di vista dell'accorpamento, del fare sistema anche per esempio con la politica che stiamo vedendo per la prima volta da tanti anni sta tenendo conto anche del nostro settore che è pur sempre un settore primario, vedi i provvedimenti della legge ultima di stabilità approvata. Per cui quello che ci insegna quest'annata è che lavorando insieme, cosa che è il cuore della cooperazione, i risultati si possono ottenere e possiamo sperare in una ripartenza decisa del nostro settore. Vicinanza ai piccoli produttori? Assolutamente. Territorio, rispetto dell'ambiente, produzione di qualità, ben si sposano con quello che è il concetto di produttore agricoli in generale. Produttore agricoli in generale vuol dire, specialmente nella nostra realtà piemontese, produttori agricoli di piccole dimensioni anche, di fasce anche marginali, che ben si aiutano, si integrano con quelle che sono le realtà zootecniche più importanti della nostra pianura cuneese o della pianura torinese. L'aggregazione vuol dire cercare di fare forza comune su un mercato che richiede un'organizzazione sempre maggiore dell'offerta. L'aggregazione vuol dire avere la disponibilità di rapportarsi con realtà che sono anche realtà molto importanti fuori regione. Piemonte Latte è da anni socia di Cooperlatte, un consorzio con sede a Iesi, ma che ha delle profonde ramificazioni in tutto il territorio nazionale. Piemonte Latte è socia di Gran Latte, che è una cooperativa di maggioranza del gruppo Granarolo. Piemonte Latte sta lavorando, gomito a gomito, con delle importanti e altre importanti realtà cooperative piemontesi. Una cooperativa che ha aumentato i propri soci, una cooperativa che ha aumentato i propri volumi di latte commercializzato, una cooperativa che ritiene di essere pronta per affrontare quelle che saranno le sfide del latte di oggi, ma soprattutto le sfide di un mercato globale di domani. Per il settore resicolo nel 2015 abbiamo sofferto quelle importazioni che non siamo più a controllare, per cui le semine si sono orientate su varietà per l'interno, così abbiamo rovinato il mercato per l'interno e quello per l'esportazione. Adesso stiamo affrontando il 2016 e sembra che finalmente si voglia uscire da questa palude dove il riso si è ficcato dall'anonimato, cerchiamo di connotarlo, almeno quello che esportiamo, di dargli così come si dice il nome e cognome, ovvero il riso italiano non solo con la bandierina, ma tracciato, un riso che viene coltivato in Italia, da seme nostro e trasformato in Italia. Se cominciamo a fare le cose bene, insieme, come stiamo facendo in cooperative, riusciremo a di nuovo reguadagnare i mercati che abbiamo perso, se invece continuiamo su quello che abbiamo fatto nel 2015, sarà nel 2016 peggio di quello che è passato. Uno strumento che abbiamo a nostra disposizione è quello della cooperazione, insieme, come fa la cooperativa Resicoltori Piemontesi, si riesce a orientare le semine, a spiegare ai nostri risicoltori cosa seminare e poi andare sul mercato con il riso che l'industria chiede e che spesso non trova, un riso nostro, il riso italiano. Per il sottocerecolo nel 2015 è stato un anno di nuovo abbastanza difficile, perché noi abbiamo avuto un 2014 con tanta umidità, tanta pioggia e una serie di problemi qualitativi sulle nostre produzioni. Il 2015 è stato un anno di segno opposto, molto caldo, poca acqua, produzione inferiore, più sana e quindi tutto sommato non è andato male. Il dato che emerge però da queste due annate è che i cambiamenti climatici cominciano a influire pesantemente sulle nostre produzioni agricole, perché questi due anni di segno opposto hanno evidenziato come i materiali, anche genetici di cui disponiamo, non sono propriamente adatti a resistere a questi cambiamenti climatici. Noi come reagiamo a questa situazione? Beh, reagiamo con le caratteristiche genetiche della cooperazione, che è quella prima di tutto di resistere sul territorio e di cercare attraverso l'innovazione, soprattutto la ricerca, la sperimentazione e così via, di superare questi momenti difficili che riguardano il discorso economico più in generale, che ha toccato tutti i settori, compresa l'agricoltura, ma che riguarda anche questi cambiamenti climatici a cui l'agricoltura rispetto agli altri settori è molto più esposta. Per il settore vitivinicolo il 2015 sicuramente sarà un'annata da ricordare, nel senso che è stata una delle annate tra le migliori degli ultimi anni, abbiamo avuto una vendemmia eccezionale con altissima qualità e le prime prospettive di vendita del mercato ci stanno dando ragione, nel senso che anche le quotazioni dei prezzi dei vini sono in aumento e il riscontro sul mercato è ottimo. Naturalmente l'impegno che da anni la cooperazione sta mettendo in termini di sviluppo e sbocchi sul mercato continua nella promozione, quest'anno è stato l'anno di Expo, quindi una vetrina straordinaria in cui l'Italia, i prodotti vitivinicoli e agroalimentari in generale si sono potuti presentare al mondo e l'export, come ben ricordiamo e sappiamo tutti, è uno dei canali più importanti soprattutto per il settore vitivinicolo, a partire dall'eccellenza e quindi dei prodotti di punta come varolo, moscato, piuttosto che barbaresco, fino ad arrivare alla barbera, dolcetto e così via. Per il settore delle carne l'anno 2015 si è parlato persino troppo, io penso che la carne bisognerebbe restituire alla carne un po' di dignità, la dignità che si merita, perché comunque sono convintissimo che se accompagnata dal buon senso la carne, il consumo della carne non fa male, ecco questo, dico solo questo perché abbiamo parlato troppo già sulla carne nel 2015. La cooperazione sta giocando un ruolo in Piemonte, cioè molto importante, ecco sta valorizzando tipo ad esempio la razza piemontese, questo è un contributo che sta dando noi indifferente, anzi forse c'è anche poca cooperazione in Piemonte, bisognerebbe che ce ne fosse un po' di più, specialmente nella fase della macellazione, ovviamente trasformazione. Cercheremo di impegnarsi per aumentare il ruolo della cooperazione nel settore della carne. Per il settore forestazione diciamo che il 2015 è stato un anno che sostanzialmente si è dimostrato come gli anni precedenti, un anno di difficoltà e non un anno felice per il settore, che comunque è sempre un settore marginale. Noi stiamo molto patendo tutto quello che è stato il processo di deistituzionalizzazione della montagna, con la scomparsa delle comunità montane e con la diminuzione dell'attenzione politica sul settore delle montagne, della foreste e della prevenzione del rischio idrogeologico. Da questo punto di vista la cooperazione rappresenta un punto di, diciamo così, un apice dal punto di vista aziendale, cioè come aziende modello per quanto riguarda il settore, perché comunque essendo il nostro territorio estremamente frazionato, parcellizzato eccetera, o si danno risposte unitari attraverso dei movimenti di persone che si strutturano in forma cooperativa, se no questo settore è destinato piano piano a morire. Nel 2016 diciamo che comunque dal punto di vista degli aspetti ci danno qualche speranza, il fatto che comunque il nostro territorio sta sempre di più diventando abbandonato e boscato, per cui noi adesso in Italia abbiamo un territorio che è estremamente ricco di questa risorsa e che prima o poi dovremo cominciare a valorizzare in qualche maniera. Per questo, tra virgolette, la cooperazione è pronta per dare delle risposte. E dopo aver ascoltato la testimonianza di tutti i settori di Fedagri Piemonte, andiamo a leggere il 2015 attraverso i numeri con il direttore. La cooperazione agricola aderente a confcooperative, quindi nella sezione specifica di Fedagri, associa oggi più di 250 cooperative agricole, che esprimono un fatturato superiore al miliardo di euro, un numero di soci associati alle imprese superiori ai 25.000 e un numero di detti superiori ai 2.000. Numeri che esprimono una cooperazione frizzante dalle bollicine ed è per questo che io vorrei brindare, insieme a tutti voi telespettatori di Robeda Fedagri, a un 2016 che lo sia altrettanto. Quindi continuate a seguirci, viva la cooperazione, viva Robeda Fedagri. Tchim tchim!